Perché Blu sta nella cameretta Se lo pecchi io l'ho peccato Oh Blu Ha preso e ha girato dietro l'anso Guarda, è insuccio Comunque io devo darti una brutta notizia Ciao Giammo Temevo non stream massi stasera È difficile gestire due supercar Mentre si vive in Etiopia Allora signori, ma c'è Forse l'avrei dovuto fare io Io vi vorrei far vedere Quello che io ho su Whatsapp Da parte di Mitico Scheck Perché Mitico Scheck mi ha inviato sette link Con i titoli di ciò che succede Nei vari link di TikTok su Ciccio Gamer Tu sei denunciabile Tu sei matto, sei pazzo, stai fuori di testa Sei veramente strano sei Cioè è una roba, lui sembra un lavoro Non lo so, di qualche detective privato È una roba inquietante Però ancora prima È uscito un video di Enzuccio Sembra essere uscito un video di Enzuccio Dove esprime delle Storia di Ciccio Gamer Platinum Sus Ciccio Gamer No, che cazzo ha fatto? Ragazzi ho scritto Ciocio Gamer Beh, meno male che non ho sbagliato Un paio di altre lettere Sarebbe stato un disastro se no Allora Cominciamo a capire un attimino Che cosa dobbiamo fare della nostra vita Voi io spero che appunto vada tutto bene Nella vostra vita Sono molto, sarei Beh, diciamo Sarei molto felice Che voi siete felici Eh? Cosa? L'Olimpo non è pronto E voi? La Civil War è in atto Emoci diavolo Famose durisate Hashtag Hashtag Tanto è meglio Ciccio Hashtag Anche Più bello Cosa? Comunque è assurdo Come ancora la gente Non abbia capito Come funzioni Cali di interesse Se fai un casino mediatico La gente riprende interesse Poi di nuovo calo All'altro casino Lo fai da un po' ormai Ci toccherebbe cambiare strategia Cosa? Michele Urso Michele Urso Michele Urso Se stai guardando la stream Stai attento Potrai evocare il tuo nemico Il tuo più acerrimo nemico Virgola Eh? E adesso che cazzo farai Michele Urso? Questa rutellina Allora Storia di Ciccio Gamer Che cosa ha combinato? Sporchi Ma che cos'è questo inizio di storia? Verisus Anzi Supremesus Ma che ha fatto? Non lascia perdere Se proprio devo Ma raga Stiamo a Magicland Stiamo con Stiamo Sto incontrando tantissimi di voi Però sapete che per noi Non è assolutamente un problema A giornata c'è A giornata Quanto è bello rivederlo Ogni volta che lo rivedo Ho voglia di guardarmi le perle Le perle del Joker 3.0 Quanto lo amo Guarda in realtà Sta per sparare un Basta Adesso sbarro io C'è anche del content Abbiamo fatto fare lo shock a mamma Purtroppo il video è capitata su lui Oddio la madre di Ciccio Gamer Non l'ha mai vista L'unica Che il video Però ha detto che dopo Se la rifà Dopo la rifà Così abbiamo il video Così abbiamo il video mamma Brava Brava Per il resto Rega io sto diventando La mamma di Ciccio Gamer Prima di GTA 6 Emoji teschio Emoji teschio Ehi Attento È successo due ducera fa Ehi Ehi Dichiara una sbagliazione Francesco Marzano Cosa Francesco Marzano Il miglior streamer di sempre Non ne sbaglia una Dovrai anche farti una vita Ti ricordo Probabilmente insensibile Allo shock Perché per me è stata una Passeggiata Pure per te Però ma Non lo so La madre la vedo un po' sus Onestamente Pure per te è stata una passeggiata La madre sta tipo Ciao Ciccio Ciccio Calcolate lei non è mai venuta A uno dei parchi Di divertimento Buonasera Allora questa sera Live Spaziale Ma quello è per caso un domatore Ottima truppa di velocità Che ti permette di avere Una scarpa in più di velocità Su Squad Booster Acquisisci tre domatori Per fare un'evoluzione E rendere il tuo domatore Sempre più grande Ehi Il torneo delle comunità Vi sta aspettando Che cosa state aspettando Venite a giocare con noi L'otto di agosto Nel grande torneo Di Twitch Italia Squad Booster Scusate No è un raccoglitore Leccatemi le palle Eh Leccatemi i coglioni Poi se volete Sempre se volete Vabbè ma so tutte stare normali Zio Borgo E vi ricordo che sul No riazco a capire No riazco a capire È sempre strano È sempre strano Non è impazzita Cioè è impazzita I fratelli Alessandrini Attuano questa tecnica Si crea un meme Si crea un meme E lo spammano Per i restanti 6226 giorni C'è Ciccio Gamer Che ancora se gli fai No c'è Joker Che se gli fai Scusate a che ore sono È la mia primissima volta Che guardo l'orologio Guarda Joker È proprio impossibile Lo avrai già fatto Nei tuoi 30 anni di vita Mamma mia Sarà proprio la prima volta Che calpesto una merda Anche questa è molto complicata Devo essere onesta Vabbè signori Allora io ho una marea di robe Una marea di robe Da farvi vedere Appunto Adesso le andiamo a vedere Vuoi dire a Ciccio Di sbannarmi Che gli ho detto semplicemente Che non lo potevo più seguire Oggi Perché è andato in live Il re dell'Olimpo Basta ragazzi Veramente Fine Ciccio e frene Discutono Discutono Del peso Delle responsabilità Sui social media Allora abbiamo Quattro tiktok bollenti Ma prima signori Abbiamo un ragazzo A cui andare A porgere un saluto Abbiamo il demone Il mostro Il sacro impero Signore e signori Qui Abbiamo Cosa Come condivido Che ho fatto la sub Sound muted No ragazzi Esco dal Dal team speak È una cosa Adesso vi mando Adesso mi sono rotto il cazzo Comincio a prendere Seri i provvedimenti Vi mando una foto Su telegram Sui nomi delle persone Perché è una situazione Che deve cominciare A smettere Scappa Perché sto arrivando A dimostrarti Che Signore e signori Anche Ciccio Gamer E Freddy Insieme possono fare Del contenuto Ed ecco qui Un po' di clip Da offerte Gentilmente Da mitico Scecca Ma attenzione Perché F word trump È qui Tra noi Buonasera Smettete di fare Disinformazione E spiegare Che i goblin Mi hanno presi Fin da subito Per ottenere Più monete Possibili E farmare Prima Ma questa è una sciocchezza L'unica cosa In cui secondo me Ciccio ha ragione Il migliore è sempre Greg Che ti permette Di distruggere Gli alberi E di conseguenza Di farmare subito Delle monete Per poi prendere Altri personaggi Ragazzi Ci ho shoppato Quarantena Ecco perché Porco Dio Non posso prendere L'arberi Perché serve Greg Sì serve Greg Ma che cazzo Ne sapevo io Guarda Ci ho shoppato Quarantena Ah io venti L'ho detto prima Mi sono preso È il tigre Il Quello Il maxi Il personaggio Maxato Il personaggio Maxato Per cazzo Di il prima Ottimo Beh dovresti vedere Chi birbi La La strega maxata Veramente molto forte No frate Quanto hai shoppato Senti Ma Gianmara La domanda che io ti voglio fare Con tutto il rispetto E la pace del mondo Ma mentre il capo Stava a fare sta cosa Io invece Stavo a fare La mia stream Giocando a dei miei Videogiochini Così Ma mo perché io Ma devo rivedere Oh no Che palle piene Che hai lì No Marzo Ma infatti Se vuoi Se vuoi me li posso vedere Da solo Senza problemi Eh se vuoi va bene Dai mi vado a fare Una giochessata Che a me Ecco io Gli voglio bene a ciccio Però insomma Queste robe Non me ne frega Proprio un cazzo Hai detto Che è una merda umana Merda ambulante Voglio bene a ciccio Ma sei scemo Ma non me ne frega Proprio un cazzo Basta Ma che cazzo Me ne frega Ma certo Ma a parte Che poi Stil Io ti ripeto Secondo me Quando ci siamo visti Il video del ciccio gamer Abbiamo fatto Un'analisi Eccellente Io sono molto fiero Di quello che ho detto Quando abbiamo visto Quel video Quindi nessuno Mi deve rumpere i coglioni Anche perché ragazzi Freccia di Zeus Lancio Del Lichino Dai vado a vedere Queste clip E poi Respauno Sound muted Ciccio e frene Discutono 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 Del peso Delle responsabilità Sui social media Non avete capito una cosa Che cazzo Non l'abbiamo capito Adesso tu mi devi Spiega per filo e per segno Che cosa cazzo Non abbiamo capito Che voi Per questi ragazzi Che vi seguono Anche per le persone adulte E le persone più piccole Siete come dei fratelli maggiori Siete come dei papà Come un dio Grazie Per favore Mettiamo le cose bene Bene Diciamo le cose bene Voi questa roba Non l'avete capito Voi avete buttato Tutto sul gioco Tutto sulla cazzata Prendete i vostri soldi E ve ne fregate Il cazzo Ripeto Non sono d'accordo Mi dispiace Io non sono d'accordo Perché il Perché io Mi rendo conto Che Ciccio Gamer Passa il suo tempo A dover editarsi Da solo i video E a fare dei punk rock Veramente bruttici Cioè Non se può Non te posso Fai complimenti Per i punk rock Che fai Perché so la cosa più brutta Dopo gli schermi Bianco e neri Del K Quando provava a editare Su Sony Vegas Però Cioè Devi vedere Devi vedere La devi vedere È ovvio che non avrà mai visto Un'ora di streaming nostra Mentre parliamo di quella cosa Però Va vista Se no non puoi Non puoi mettermi in mezzo A certe roba Quando frene I ragazzi che ti seguono Probabilmente Per tanti di loro Tu sei un fratello maggiore E se tuo fratello maggiore Si comporta Porelli Porelli A me dispiace davvero Oh ce so io nel caso Cioè veramente Cioè mi rendo conto Di entrare in camera Di tuo fratello maggiore Lo vedi Con tutto il rispetto Papà Ma Fratello Fratello Vogliamo giocare oggi Me so sborrato E mo ho fatto La scoreggia Ma so pieno di merda Nelle mutande Cioè Capisco che Deve essere complicato Regà Quindi so So con voi Cioè Ve tengo Se vi porto sempre Nel cuore A certa maniera Io automaticamente Acquisisco Quello che fa Mio fratello maggiore Ok Come fa Da non capirlo Che la gente Ci vuole bene Ma io lo so Ma questo io lo so benissimo Io so benissimo Che se domani Prendo E inveisco Contro una persona In maniera Cattiva In maniera qua In maniera là Indirettamente Anche se non dico Andate da quella persona Ci sarà qualcuno Che andrà da quella persona A rompergli le palle È una maniera Che tante persone fanno A volte anche Anche in forma subdola Cioè Non dicono espressamente Magari Eh Oh andate a romper cazzo A quello Ma nel momento in cui io Ce l'ho con qualcuno Automatica E il maestro K Anche una parte De persone Che me guarda Ce l'ha con qualcuno Quella R È il maestro Ciccio È irregolare Ma quello non è solo Twitch È ovunque C'era su YouTube Prima quei video Sì ma io parlo Sì ma io parlo con Twitch La stessa cosa è Te il mio Io prendo il mio video Che fino a poco tempo fa Te lo ripeto Aveva solo commenti belli Adesso è diventato ingestibile Perché c'è qualcosa Qualcuno si è messo in mezzo Ma perché è dato detendenza Eh ma C'è Sì sì Le persone hanno un loro Una loro intelligenza Cioè Se il video arriva a altre persone A terzi Perché a un certo punto Anche come il K dice Va in tendenza O viene semplicemente Visionato da altra gente Perché comunque Anche noi siamo Fruitori di YouTube E possiamo fruire Di YouTube anche noi E viene fatto vedere il video Nel senso Poi arriva gente Dotata di un intelletto Che decide se Appoggiare quello che dici O non appoggiare quello che dici Poi Che discorso è questo Non sa anche C'è andato Le tendenze ovunque E soprattutto I commenti Cioè I commenti Cattivi Barra Quelli scherzosi So perché È il meme Che è andato in tendenza Cioè Il meme è andato virale Il meme O due supercar È andato virale Quello ha portato la gente A Venire anche sul video Capito Ma se L'Olimpo Invece di fare i cazzoni Per far divertire le persone Che non hanno un quotiente Intellettivo superiore Al mio orologio Si Si fossero posti In maniera diversa Quel video Avrebbe ricevuto Più supporto E ti ripeto Noi ci siamo posti Benissimo Cioè io Nel senso Non voglio mettere tutto su di noi Però siamo Siamo stati messi in mezzo Anche noi Quindi io Mi dispiace Ma devo Devo anche parlare per noi Per il maestro Eccetera Te lo ripeto Poi per Dario Non parlo per Dario Perché Dario parla per sé Sai qual è la La cosa La santa Beh eh si Gigasa Arrivedi dell'ora e mezza Le stream La verità È che è molto più facile Andare contro Cicciochiemero Per fare hype Per fare tendenza È così frene Non te lo devo dire io Ma che Come finisce Hai caricato due minuti Porco Dio Carica due minuti e trenta E fai gli fini in discorso Zio porco Mannaggia la puttana Ciccio La reputazione di Ciccio È in gioco Tan 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 Nananana Ma è l'emozio del titolo di Dragon Ball Di gente che mi insulta Capisci Non posso Non posso Mettermi l'anima in pace Cioè se Un giorno Questo finisce La gente capisce Che sono un bravo ragazzo Un bravo uomo Ma tutti sanno Che sei un bravo uomo E poi la gente Sicuramente ci sono anche persone Che ti insultano E le persone che ti insultano Saranno sempre stupide A prescindere da tutto Però il problema È che alle volte Sembra che Anche persone Che semplicemente Dicono la loro Vengono presi Come persone che insultano E non è così Voglio dire Nel senso Se io ti dico Una mia opinione Non te sto a insultare Sto letteralmente Di una mia opinione Se poi so È contro quello che dici tu Amen Nel senso Cioè una discussione Una conversazione Si può avere un dialogo Nel caso E però è finita Boh è finita Ma io sto bene con me stesso Se invece io vedo Che Ogni volta È sempre un dissimo Ogni volta È sempre un buttarmi in merda E io sto lì Sempre che sto per affogare In una melma Che mi entra nel naso Non mi fa respirare E io sto sempre lì A cercare da uscire E grido Regà non sono quello Che vi fanno vedere Regà non sono la persona Che dicono Ma c'è il problema È che non glielo fanno vedere noi Glielo fai vedere te Cioè È questa la cosa Poi quando è arrivato Nel momento mio Boh Però 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 Sono ricordato Come una persona buona A me questo interessa Ma l'ha fatto lui il video In che senso ha fatto lui Capcute Clips Ma chi è Capcute Clips Quindi io Io guarda E l'ho detto Non ci sono problemi Poi io Il canale mio È sempre in continuo rinnovamento Questo l'ho detto Tu lo dovresti sapere Cioè io cambio sempre i contenuti Io sto crescendo No no Cioè Il mio non è mai statico Capito Però Quando io fin quando vedo insulti E ogni volta che va virale Un qualcosa Nell'Olimpo Io ci rimetto E come cazzo cresco io Come gli faccio a dire Alla tua chat Che io non sono quello che vedono O alla chat di Blur Io come arrivo Nella chat di Blur E gli dico Ragazzi Io non sono Quello che pensate Come faccio Ma nessuno pensa Che Cioè Il problema è che Non riesco Cos'è sto limpo Boh Ma non Ha senso sta roba A parte che è inquietante Nel senso È come È come se io Mi dovessi preoccupare Di andare nelle chat Di tutti A far presente Oh no Non so come Questa chat Pensa Cioè A parte C'è C'è la possibilità Di non piacere alla gente Cioè la chat del fazzone Ad esempio Mi odia Tutta Mi odia tutta La chat del fazzone Che cazzo ci posso fare Io a niente Amen Nel senso Il problema è che Comunque ti ripeto Cioè Ciccio Gamer Alle volte Ha il problema Di pensare Che le persone Gli vogliono male Quando invece Le persone semplicemente Prendono Quello che dice Che esce fuori Dalla sua bocca E lo analizzano Alle volte L'analisi può anche essere Un'analisi che Cade in qualcosa De negativo Se tu odi una persona Non gli clicchi Neanche il canale Se tu odi una persona Non gli clicchi Manco il canale Cì O sei meglio di te Che di me Che non funziona così Scemenze Se la prendi nel culo Siamo noi No Ma sono presa Nel culo Io e Stephanie Perché gli altri S'ho scampata tutti Regà Non si sta proprio Nel culo Io non Io non lo sapevo La stampa Il giornale Il quotidiano Lo sapevano Prima di me Io non lo sapevo Era sabato mattina Mi stavo facendo la doccia E alle ore 10 Mi viene da ridere Perché poi qua Potrebbe partire Un nuovo cazzo Di meme Tipo quello della coca cola Io mi stavo lavando Il cazzo E mi No E mo Mi stavo Ogni risposta Che dovrò dare E mi dispiace Mi stavo a lavare Il cazzo Mi chiamano 558 persone Mi chiamano Santo Dio Che mi avevano Inculato Cosa? Cioè è stato Inculato Da 550 persone Ma che Che anno ha? Eh Ma poi perché c'è Musica Chad Sul drop Dell'inculata Ok Però se tu Oddio E poi ti fa risata Del ciccio Ti fa Ma che Ma che Ma che è di te Che è di te Poi questi canali Pensano veramente Che magari Editano anche bene I video Siete come l'editor Di ciccio gamer Siete Porco dio Gabriele Andrea Pistacchio Bentornati nella mia Divina stalla Ciccio piange A causa della sua Situazione Mi state allontanando Le generazioni Mi state allontanando Mi fate passare Per un pezzo di merda Che non sono Tutto qua E a me dispiace A me dispiace Perché non riesco più Ad avere Nessun giovane In questo momento Che mi dice una roba del genere A me mi pesa Sta cosa qua E mi taglia E non posso fare anche più Un video dove sbaglio A casa mia Perché devo Devo essere preso per il culo Mi da Mi Mi è diventata pesante Sì La La situazione Poi a me mi dispiace Io mi commuovo Perché sono molto No no ma Come mi commuovo Sono molto di cuore Però mi da fastidio A me ogni volta Che qualcuno mi viene E mi dice Sì io sono dimagrito Grazie a te Ma per me è un orgoglio Quando qualcuno mi dice Sì io te voglio bene Da quando sono piccolo A me fa tanto piacere Ma perché non riesco più Ad avere Nessun giovane In questo momento Che mi dice una roba del genere Ah sì Perché Non ti sta più andare Il canale di youtube Cioè Ma uno Che ti deve dire Voglio dire Un po' succede A un certo A un certo momento Durante la nostra È un periodo Ma il lavoro nostro È sempre stato così Ma voglio dire E comunque Non è Cioè sicuramente Non è vero che non gli arrivano Ma non perché sta di una cazzata Ma sicuramente C'è tantissima gente Comunque che gli direbbe Ste robe Solo che c'è un problema L'influencer ha un problema L'influencer leggerà Sempre il negativo Cioè se io Se io Mi mettono 20 commenti Dove mi fanno i complimenti E ce n'è uno Che dice Tua madre è una troiona Io leggerò sempre Tua madre è una troiona Non leggerò lui Ehi blur Mi hai veramente insegnato Tutto dalla vita Adesso finalmente Quando vedo un ragazzo Gli tiro giù i pantaloni Glielo succhio Cioè Eeeh Ma uno Che cazzo deve Ahimè è così Funziona così Nel senso Per quello Non è per Un discorso No 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 Guarda Ma che è Chi ha usato Linkarmi questa roba Non aspetta aspetta Scusa Se ti interrompo Anche se il discorso Io l'ho ben capito Tu Non te la stai prendendo Con le persone Ma tu te la stai prendendo Con i creator Che magari Da tempo a questa parte Dicono E cose su De te Vere Non vere Discriminazioni De qualsiasi tipo E de conseguenza Te fanno allontanare Altra gente Che non te porta a seguire Ma questo lo vivi tu Come lo viviamo noi Cioè Magari tu più di altri Senza ombra di dubbio Secondo me è buono Cioè poi Nel senso Non so se ha avuto Scazzi con persone Che lo hanno proprio Insultato Ciccio che mer Ma non vedo L'avrei saputo Quindi Ma anch'io L'ho vissuto Anch'io ho persone Che puntualmente Nel loro stream O nelle loro cose Dicono Madonna Quello lì Cringe Merda O a volte io Tipo adesso Ultimamente Cerco di andare Dai creator Un po' più piccoli Con 5 spettatori 50 Per fai Tipo delle Interviste Normalissime Perché non hai mai Intervistato Zazzone Allora Eh merda Eh E dove è Zazzone Sul canale del K Inaccettabile Hai un po' di visibilità E vengono prevenuti E dicono Ah no Io è frene Quello no Capito Però la cosa Che tu devi sapere Io ci rimango male Oggi sono entrato Da una ragazza E ho chiesto una cosa Fa Ma che è frene No no Io non entro Cioè come se fossi Il mostro di Loch Ness Quando in realtà Se uno mi conosce Di Firenze Di Firenze Non di Loch Ness Perché Fuori dalle stream Io sono la persona Più buona E tranquilla del mondo Eh ma secondo te È giusto? No No Da me Eh ma tu da me Hai mai ricevuto Un trattamento dal genere? No Ma allora E per quello che io ti dico Fre Io davvero Io ogni volta Ringrazio Eh Noci Non devi dire grazie a nessuno Nella vita cammini Da solo I miei passi Li ho fatti uno ad uno Diego Ogni giorno Che io Eh Sono fortunato Ad aver fatto Questo lavoro Che tra l'altro Questo lavoro È stato Eh La 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 Che mi ha fatto uscire Da un grandissimo Periodo Di depressione Io Prendevo Lo Xanax Io sono andato Proprio Dagli psichiatri Quelli veri Io sono stato Tanto Allora Allora Ci Ti dico Ci Tu hai un potere A prescinde Però Ci Però Si Non mi farà arrabbiare Non mi farà arrabbiare Non è che se uno fa una gag adesso Durante un discorso Serio Ti sta prendendo per il culo Eh Cioè Però Tu ci hai il potere Di fare Di creare dei meme Incredibili Cioè Tu ti devi rendere conto di questo Cioè Io ho due supercar È un meme pazzesco Adesso Gli psichiatri Quelli veri È un Secondo me Cioè Adesso Perché non passerà in sordina Ma è incredibile anche questo Ma che cazzo significa Scusa Ma perché Cioè Voi Non Tutto male Dopo che ho giocato ai Gears È una storia un po' strana Che ero entrato in una bolla particolare A me mi ha dato una mano gigantissima Pazzesco Ad uscire da sta roba qua Eh E A me però dispiace Che Mi immagino tipo I psichiatri quelli finti Sono tipo Voi da un psichiatra Da questo se gira È RK Vedi tipo RK travestito Con gli occhialetti Con il corbafo La gente attribuisca Quello che sono io Ai soldi Cioè Capisci Cioè Ma questo però Non è che l'ha pensato la gente L'hanno pensato Anticontent creator Che hanno influenzato Le persone È quello che io Mi sto lamentando Ed è quello che io Sto Ho Etichettato L'Olimpo Ma questa è la metrica Questa è la metrica Ad adesso Cioè La metrica La metrica Quest'altro che sta a dire Ma che sto a sentire Airbnb Hancock Miles Davis A coglione A merda Succhia per cazzo A merdaccia Ma a me c'ha la schermo No Mi sa di no E cara adesso Eh però bisogna combatterla Io tanto Ho capito una cosa Se mi sto Se mi sto zitto Prendo cazzi Se parlo qualche cazzo Lo do Allora a sto punto A sto punto Che devo fare Basta Io Guarda ti giuro Io sono stato un periodo Dove ho detto No mi devo stare zitto Perché probabilmente Sbaglio No devo stare zitto Perché probabilmente Sbaglio Forse hanno ragione Gli altri Cioè quando gli altri Riescono a convincerti Che tu sei una persona Cattiva E tu in realtà Sei molto molto Buono Partono dei contrasti Dentro di te Che sono veramente Orribili Perché la gente Ah sì Nessuno te deve poter Levere la voce Tranne a Marco Buono Marco Buono Tocca solo piccialla Un po' più alta Capito Devi aumentare qualche decibel Un semitono in più Riesce a convincere te Che tu sei una persona cattiva Pensa Gli altri Quanto la convincono bene Ed è brutto Da passare Regà Io adesso parlo Alle chat Pensate se voi Siete un buon accione Del gruppo D'accordo E a un certo momento Cominciano a dirvi Che voi siete la merda Che siete la merda Che siete la merda E te lo ripetono per anni E tu stai lì E combatti Dici no Regà Ma non è vero E alla fine Tu incominci a pensare Davvero di essere la merda Di essere quello sbagliato Ma tu sai Che dentro Sei buono Come stareste voi? Ed è quello che capita a me Freni Tutto qua Io espongo Quello che sono io Ve l'ho sempre messo sul tavolo Piace o non piace Questo è Questo è Io non Io non seguo molto Devo essere sincero Sei la merda blu Vabbè Io Ciccio piange Ok E abbiamo l'ultimo Spiga No No Così muore il meme No State uccidendo il meme Quelli con cui io sono abituato Ho detto sono stupido Le devo utilizzare La questione delle supercarry In realtà è molto più spinosa Di quello che si pensa Perché Io ho provato a spiegarlo In altre situazioni Ma ovviamente Fin quando non sono clip De contestualizzate Non girano queste cose qua Quindi voi non lo potete sapere Praticamente Io la mustang L'avevo venduta Prima di farmi il viaggio In America Quando sono andato a Orlando Con mio fratello Quando sono andato Posso dire Dico una gran cazzata Sì Mi sto evolvendo in Re delle cazzate Ma la mustang È una supercar Teoricamente no Cioè Mo dico una puttanata Teoricamente c'è Cioè No perché io C'ho un amico Che c'ha una mustang Ma mica ci paghi Ci paghi il superbollo In Italia Vorrei di puttanate Una must call car Sì La macchina Dei danni Dei danni Lazzarin Quello sì La sua no Eppure Però se paghi il bollo Sì Ma mica il bollo Poi decide se pagarlo o meno Ma che cazzo significa Certo che lo paghi Alessandro E me sa che tocca Inizia a pagare il bollo Me sa che è finita la festa Alessandro Scusate parlo con l'amico mio È strana sta situazione Non mi ricordo Vabbè Qualche mesi fa Sei mesi fa Mettiamo sei sette mesi fa Esatto Non Alessandro Il capo E praticamente Io l'avevo venduta la mustang Quindi io Sono partito Che non avevo la mustang Prima di partire Ho detto Vabbè la mustang L'ho venduta Cambio macchina Mi sono fatto un'altra macchina Io non c'ho la patente Quindi posso Quindi che cosa è successo La mustang Io non l'avevo a casa Non avevo più macchine Perché l'altra macchina L'avevo ordinata Me ne vado in America Quando vado in America Succede X cosa Che non ti posso dire Perché ci sono in mezzo O comunque ci sono Stati in mezzo i legali Ok Per X motivi Questa cazzo di mustang Al ritorno dell'America Non è stata venduta Non è stata venduta Ok E mi sono ritrovato Con la mustang E con la macchina nuova Capito Questo è successo Non per altro Perché io Però dopo capito La domanda che sorge Che uno dice Allora signorina Intanto Ho due cellulari Ma anche Ma anche due supercar Ok vabbè Vabbè Ma allora Non è spiegato un cazzo Non si capisce Comunque una sega Non c'è modo Di capire nulla Ogni volta Mi sono rotto i coglioni Sono agitatissimo Sono Sono arrabbiato Mio padre Imita mio padre Ok Blu Acta Dario Moccia Che fa la sua imitazione Emoji risale Cioè io ho reagito Al blur Che reagisce a Dario Moccia Che imita blur Ma reacta a se stesso Ma ti volevo però Prima far vedere Un video Vi volevo far vedere Solamente per farvelo vedere Devo un attimo Le varie No vedete E se non ve lo facessi vedere Invece Perché è stato rimosso Da tiktok Mi sembra quasi Una mancanza di rispetto Però ve lo posso far sentire Guarda Enzuccio Comunque io devo darti Una brutta notizia In generale Enzuccio Ho una brutta notizia Per te Da prima Probabilmente Non mi so Girato Perché Mi chiamo Blur Se mi chiami Blu Cioè potenzialmente Boh Magari avevi visto Una maglietta Che piaceva a qualcuno Cioè che Che cazzo ne so Poi Regà Mi dispiace Enzu Io te devo Una bruttissima notizia E mi sa Che te hai visto Qualcun altro Perché io Non t'ho mai Beccato in vita mia Quindi C'è qualcosa Che non C'è uno dei due Sta di una cazzata Quindi E io non so Non voglio fare La mossa del maestro Quando su Among Us È l'impostore Però C'è sta qualcosa Che non funziona Al momento Ma non perché Gli devo mettere le mani a tosse Per avere un confronto No Dicendo Io ho 30 anni C'ho una figlia È inutile che va a fare Sti dissing di merda Perché non è che Vi sto a mettere là A fare le storie Di dati Quella futtana Dell'altro Beh Vabbè Ma Blu È un c***o Letteralmente lui Che commenta I tiktok Di Goatinsider Che ho scritto Ha 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 Dice Solo scemenze Cioè io non capisco C'è qualcosa Che non quadra Cioè le persone Se la prendono Se uno li prende Li sfotta un po' Dopo che le persone In primi Si iniziano A scrivere E cazzate Sotto i commenti Dei tiktok C'è qualcosa Che non funziona Non so Ma poi Mi dispiace Zui Cioè Se vuoi te la dedico Una storia di instagram O un tag Poi non so Che cosa significa tag Ma Non l'ho mai fatto Cioè Però se Se Posso mettere una foto Dei richarlison Ne storie E taggate Cioè se Senti Sto bisogno Ne puoi avere bisogno Lo posso fare Io non Non schifo niente Di questa roba Non ti devi Non ti devi preoccupare Comunque per dire Il fatto di avere Trent'anni Una figlia I figli Si fanno Per gioia Penso Tu lo saprai Molto bene Non è che devono Essere messi dentro Non ha senso C'ho trent'anni E una figlia Cioè Non è una cosa Sensata In un discorso Del genere Enzuccio Veramente Un ragazzo Per bene Gli mandiamo Un bel bacione A Enzuccio E un bello spam Di cuori Ragazzi Un bello spam Di cuori blu Per mio fratello Dai Come Finalmente Abbiamo scoperto Che non solo Gilberto il nano Mi chiama blu Ma anche Enzuccio Ma si No ma so viola Subumani Ma cosa fate Neanche i colori Sapete utilizzare Un bello spam